Volevo chiedere al professor Boeri come cambia a suo avviso a questo punto il mercato del lavoro nel nostro paese. Renzi dice che è un modo per diminuire gli alibi ai sindacati e alle imprese questa riforma accompagnata dalla legge di stabilità. Il cammino è ancora lungo perché c'è il voto della Commissione Lavoro della Camera, poi ci sarà il voto dell'Aula della Camera, poi ci sarà il Senato e poi alla fine decreti attuativi. La legge delega è qualcosa di molto generico, l'emendamento che è stato approvato è un emendamento che per certi aspetti la rende un po' meno vaga e questo è un fatto positivo perché altrimenti ci sarebbe stato il rischio di un'impugnazione della legge stessa per eccesso di delega e quindi in questo senso rende più probabile il fatto che alla fine avremo una riforma seria del mercato del lavoro. Quindi per dare un giudizio compiuto bisognerà inevitabilmente aspettare il termine di questo processo che mi auguro si concluda davvero entro la fine dell'anno perché sarebbe molto importante che i nuovi contratti a tutte le progressive entrassero in vigore assieme alla legge di stabilità quindi alle norme che come ricordava Taddei poc'anzi incentiveranno fiscalmente le assunzioni nei contratti a tempo indeterminato. Sarebbe davvero importante che i datori di lavoro venissero spinti ad assumere nelle nuove tipologie contrattali anziché in quelle vecchie. Se davvero la riforma venisse fatta a tutti gli effetti e venisse introdotto questo contratto a tutte le progressive credo che sarebbe un cambiamento molto importante nel nostro mercato del lavoro perché vorrebbe dire dopo anni in cui si è creata questa segmentazione così forte abbiamo avuto due comparti separati del nostro mercato del lavoro uno fatto di lavoratori che non avevano alcune tutele che avevano costantemente passaggi da un lavoro all'altro con frequenti periodi di disoccupazione un altro segmento invece più protetto finalmente avremo un mercato del lavoro in cui si entra i giovani possono entrare perché sono soprattutto loro avendo non avendo una data di scadenza in partenza avendo orizzonti più lunghi quindi sia i datori di lavoro che i lavoratori potranno investire sulla qualità di questi lavori investire sulla formazione in azienda ecco il fatto più grave io credo del nostro mercato del lavoro è il fatto che non si investa più nella formazione sul posto di lavoro e questi investimenti di capitale umano non può avvenire soltanto nella scuola e nell'istruzione formale deve avvenire sul posto di lavoro noi abbiamo un problema di produttività molto bassa fin quando non cambiamo le regole contrattuali temo che questi investimenti di formazione non ci saranno senta ragione Filippo Taddei quando dice che questa riforma del mercato del lavoro non è solo l'articolo 18 è chiaro che si è parlato soprattutto di articolo 18 Boer io le chiedo cosa cambia rispetto alla riforma Fornero cioè viene meno il reintegro per i licenziamenti economici questo è il primo e il più importante salto di qualità? certamente questo è un aspetto importante ma anche sul lato dei licenziamenti disciplinari è importante che venga davvero ristretta la possibilità di applicazione del reintegro il problema centrale credo delle nostre norme sui licenziamenti è la grande incertezza in cui lasciano le imprese questo è ciò che scoraggia molti datori di lavoro dall'offrire fin da subito dei contratti a tempo indeterminato e soprattutto il rischio che anche un lavoratore che è stato appena assunto e che in cui si decide di interrompere il rapporto di lavoro perché magari ci si accorge che il rapporto di lavoro non funziona teniamo conto che nei nuovi lavori che vengono creati oggi conta davvero tantissimo le qualità del dipendente queste qualità del dipendente non possono essere stabilite accertate sulla base semplicemente di un colloquio o di una lettura di un curriculum e quindi noi vogliamo permettere a un datore di lavoro che ci dovesse rendere conto a un giorno a due giorni dall'inizio del rapporto di lavoro di aver fatto un errore di poter rimediare a questo errore senza dover pagare gli stessi costi che dovrebbe pagare per un dipendente che è stato in azienda per 20 anni ecco questa cosa la legge Fornero non la cambiava di fatto e manteneva questa grande incertezza perché dava continuamente questa grande discrezionalità ai giudici nell'interpretare la legge Io mi auguro che la legge delega poi trasformata in decreti attuativi invece riduca di molto questa discrezionalità e instauri per tutte le tipologie di interruzione dei rapporti di lavoro tranne dei casi molto marginali e difficilmente in qualche modo assimilabili ad altri casi il fatto che c'è una compensazione monetaria che è crescente con l'anzianità di servizio